Musica Hi people of youtube, welcome back to ogni episode of Mario & Luigi Partners in Time A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'eruzione del vulcano Che ci ha portato prima a scontrarci contro la moglie di un tuomp E poi ci ha permesso di entrare qua dentro il vulcano Allora questa parte qua dei bimbi che adesso si fanno tutto il percorso Non mi ha mai fatto impazzire Non mi ha mai fatto impazzire perché a volte il gioco ha un tempismo diciamo o meglio una hitbox tutta sua per gli oggetti E soprattutto ci sono queste parti qua dove ti nasconde, ecco esatto Dove ti nascondo gli oggetti e dici ma sei stronzo allora E di conseguenza dici vabbè a sto punto rifacciamolo il percorso Il problema qual è? Che se prima ti fai il percorso e poi scendi così Non hai idea di dove devi andare a volte Vediamo anche perché a me sembra che ci sia anche qui una scatola O sbaglio? C'era qualcosa anche qui o no? Forse no Vabbè io intanto scendo mal che vada Torneremo no? Intanto le monete non fanno mai schifo A parte quando le becchi una alla volta però vabbè Quando le becchi quelle dieci e venti in più Eccolo qua Non mi andava di combattere senza avere gli adulti vicino Un po' perché vabbè Almeno evitiamo di prenderci troppi danni ma anche perché Almeno Salgo tutti di livello in modo uguale Ah ecco io mi ricordavo della torre Non mi ricordavo quando sarebbe successa Anche perché poi se non sbaglio I danni che gli facciamo a inizio battaglia per dire Quando sono ancora divisi si annullano nel senso non valgono più Oggetto E bevi mimmo Salvi di livello Allora che cosa ti aumento? E beh aumentavo la velocità e basta Perché avevamo solo punti da aumentare sulla velocità Avevamo solo seili Vabbè Oh meglio di nulla Andiamo Allora eccoli Sette fiori clone Neanche pochi cioè Sette sono Diciamo Diciamo abbastanza Questi scappano eh Eh certo Ok allora Io non mi ricordo che cosa li uccide questi Proverai col fiore ma sono abbastanza sicuro che no Ecco lo sapevo infatti Che cosa li uccide questi? Proviamo col fiore clone Dubito che serva qualcosa ma Tanto vale Dai Mi ha distratto il fatto che l'abbiamo ucciso quello Ecco fatto Vabbè a sto punto Uno Due E vabbè usiamo il guscio Ecco fatto Se non ricordo male Dovrebbero avere anche un drop raro questi Minchia 252 di punti esperienza è tanto È davvero tanto Certo ci vuole un sacco per ucciderli Ci vuole veramente un sacco e Fuggono Il che rende vano il Cercare di ucciderli o usarli come Come spot per Per livellare Ecco qua Cosa mi conviene usare? Proviamo col tasca tegnaccio Vediamo se ne vale la pena In teoria Già due di danni Ogni volta li riusciamo a fare Più che altro che sfiga che I colpi fortunati Non servono a nulla Perfetto Ma guarda Come ho detto Non ne vale neanche la pena Li facciamo Perché li facciamo Cioè nel senso Siamo qui Tanto vale ucciderli Mi aspettavo che fosse quello da 100 Però Il fatto che scappa Il fatto che Prendo uno di danno Rende vano L'usarli Veramente Allora Fungo Si fungo Fagiolo Ecco qua E proseguiamo Altra discesa Ovviamente Allora Questo Non mi ricordo Che cosa ci Ah certo Che scemo C'è il C'è il come si chiama C'è il ponte Io Tuomp Tuomp Oh benvenuti Questa sala Minigiochi Fratelli Tuomp Tuomp Cosa Io essere solo No Fratellino Essere più giù Vuoi essere di fretta Delusione Vuoi fare una partita Allora Vuoi andare Vostra prima volta Quindi partita Essere gratis Va bene Due Ok E Queste Essere regole Quello Essere cannone Palla andare dentro Qualunque palla andare bene Quando palla Essere dentro Vuoi premere il bottone Sulla destra Non mi Ecco Non mi ricordavo Il minigioco Sincero Fa lavorare Vuoi guidare palla Ah E' il minigioco Gem essere ovunque Vuoi prendere Quante potete Tante gem Essere meglio per voi Dopo Prendere gem Entrare in buco Io dire di più Quando voglio essere in buco No Perché non me l'ha presa La gem Maledizione Perché non me l'ha presa Ci sono passato sopra Girare ruota ora Schiacciare il bottone Al centro Per fermare ruote Se figura Essere uguali Vuoi vincere Il grosso premio Premio essere bello Vuoi avere tre gem Vuoi girare tre volte Allora Dopo il fiore Ok Dopo il fiore Yes Preso Tuo pot Tre stelle Fare un fagiolo Fagiolo essere prezioso Non sapere perché Ma preziosi Clink Vuoi girare ancora due volte Va bene Allora Fiore 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 Perfetto Tuo pot Tre fio Tre cose fagioli Ok Grazie Non che ci servano Però Sto punto Cioè ci servono Ma Fino a un certo punto Vorrei provare A cosa A cosa vinciamo Col fiore Però Allora aspetta Uff Ok Per un attimo Pensavo di averlo premuto Troppo presto Tuo pot Ora Che abbiamo fatto Sto minigioco del cazzo Possiamo uscire o no Grazie Giocare È essere bello Vuoi tornare a giocare No Cioè o meglio Potrei Per farmare i fagioli Ma no Grazie Va bene così Cioè Cento monete Non è neanche Chissà quanto Però Ascolta Va bene così Non mi spreco neanche Sincero Ok Super funghi Mi chiedo Se l'opzione migliore Per Uccidere Quei Come si chiamano Quelli Non sono iguane Come si chiama Quei camaleonti d'oro Oh Sia usare il Il martello Per stordirli O meno Mi chiedo Tra l'altro Se questi Usando il fiore di fuoco Aumentiamo le loro fiamme E li uccidevamo prima Mi ricordavo una roba del gel Usiamo quelli del gelo E ovvio che li congeliamo E fin là Ok Ci arriverebbe chiunque Ecco fatto Però mi sembrava Che se usavamo Quello del fuoco Aumentavamo le fiamme Loro facevano più male Ma morivano prima Però non vorrei dire Una cavolata Allora Anche per Mario Ci sono tanti 6 Sulla velocità Oh Ah che bello Ce n'erano così tanti Che era impossibile Non prenderlo Quindi Gigi Che cacchio Ma come fai Ma come fai ad avere La velocità così Tremendamente bassa Bello Non l'avevo neanche visto Pensavo di prendere il 5 Io Pensavo che era un 5 Ti giuro Che culo Che culo E ti pareva E quando mai Vai Baby Gigi Minchia Potevi farlo Potevi farlo un colpo Ancora più forte Hai capito Baby Gigi Allora Ma quanti Quanti Baffi hanno Quanti baffi hanno I bimbi Scusami un attimo Allora Baby Mario 29 Baby Gigi 42 Mario 35 Luigi 49 Però Mica male Per essere due bambini Che Che non hanno neanche Un anno di vita No dai Ci avranno quanto 3 anni Poco di meno Mi aspettavo che fuggissi anche tu Sincero Ovviamente Io Sono abbastanza sicuro Che abbiano un drop rate Un drop raro Non ci giurerei Ma Sono abbastanza sicuro O forse Sai cosa C'è un modo Per fargli droppare Qualcosa Tipo Se non lo attacchi O cose del genere Ti droppa qualcosa Non lo so A ipotesi 5 fiori cloni Cosa avevo detto Allora io ne avevo comprati Un paio Giusto per averli Ma proprio due Ne avevo comprati Però Sapevo che Saremmo arrivati In una zona In cui Ce li avrebbero Droppati loro E certo Allora Uccidiamo prima Questo Non per altro Ma perché Più lontano Quindi mi viene Più facile Usare il guscio Su di lui Aveva 10 di vita Incredibile Beh effettivamente Tutti gli altri Li avevamo già colpiti Prima della bat Scappa ora Strano Pensavo che L'avrei preso Dovrebbe Essere A 6 Quindi adesso Dovremmo uscire Ad ucciderlo Perfetto Avevo fatto i conti giusti Però mi sono messo a parlare Mi sono distratto Quindi di conseguenza Abbiamo perso un attacco Per nulla Forse non devo colpirli Però le altre volte Che li colpisco A volte rimangono Quindi boh Qual è la strategia migliore Per prenderli? Bella domanda Qua c'era qualcosa? Sì Io già subito Stavo partendo A prendere la moneta E non c'era la moneta Va bene Proseguiamo Prima però Fagiolo Grazie Quanto siamo? Vediamo 17 fagioli Va bene Tanto l'obiettivo attuale È arrivare a 90 Vabbè Oddio Questo simbolo Ha un'area Molto molto familiare Consiglio di salirci sopra Tutti e quattro Sì ma Tra pochi istanti Prima Andiamo A sbloccare Lo shortcut Che ci riporterà Di sopra Ecco fatto Perfetto E torniamo di sotto Come è ovvio pensare Ci sono tre livelli Di questa Discesa E uno di questi L'abbiamo appena sbloccato Tomp Quattro passeggeri Si scende Si scende Eeeh Pum Ma certo È un ascensore Avrei dovuto capirlo Chissà Pensate che si possa andare più giù? Tomp Blocco bloccoso Ci blocca Siamo bloccati Forse dovremmo rimuovere i blocchi Per proseguire Ma va Chi l'avrebbe mai detto? Allora Prima Andiamo A destra Perché così Ci prendiamo Gli oggetti Che ci sono in quest'area E ovviamente Ti danno i funghi I fiori di ghiaccio Perché tu possa Raffreddare i bollenti spiriti Di quei Schifosi fungozzi Mi chiedo Se ci sia Una Correlazione O un Non ti dico un significato Ma un Senso Alla pila che fanno Nel senso Se prima ci sia il rosso E poi il verde Abbia un senso A parte L'attacco Quando fanno la rotolata E poi si lancia verso di te O Qualsiasi Forma di colore Alla fine È indifferente Ovviamente Noi gli possiamo salire in testa Perché Ci bruciamo E quello scappa Sai che novità Ovviamente Sai cosa Quasi quasi Beh Potrei usarli un po' di più Sti fiori Con loro Visto che Almeno ci muoiono Mi chiedo Se Anche quando Loro diventano invisibili Abbia una correlazione Col fatto che scappino O meno Se sono invisibili Scappano di più O se Quando sono io Visibili Scappano di più Ma da Oh che scemo Ho sbagliato io Ho fatto La B Invece che la A Mi aspettavo Riprendesse Fuoco Mi aspettavo Si riaccendesse La fiamma in testa Invece no Ok Un fungo vita Che di sicuro Schifo Non ci fa Allora Fermi tutti Facciamo così Ecco Fatto Cosa abbiamo qui Una fortutessera E Addio Gli spuntoni Prima di tutto Però Cosa fa la fortutessera Ci raddoppia I I Baffi Scopriamo Al colpo di fortunati Più frequenti Dov'è che l'abbiamo vista Nel negozio O da Da soghigno Non mi ricordo Aspetta Non avevamo Dato a baby luigi Una cosa simile No Baby luigi Ha quella dell'attacco Forse erano i pantaloni Erano i jeans segreti Forse Pantalone resistenti Fanno sembrare Più grande Chi lo porta No E Boh Io mi ricordavo Che a qualcuno Avevo dato un oggetto simile O sbaglio Boh Non mi ricordo Ovviamente Sia mai No Tanto adesso sono morti Che novità 150 punti esperienza Fino ad ora Forse il vulcano È l'unico posto Degno di nota Ma Tanto Come ho detto Ci sono le zone più avanti Dove Ha più senso farmare Ma Anche lì Io penso che Giocherò Normalmente Poi Se ci sarà il bisogno Di farmare Ci penserò In un secondo momento Ma Non penso Che Che mi fermerò Per Per farmare Penso che andrò avanti Col gioco E i punti che ci becchiamo Ci becchiamo quelli E via Arriviamo alla fine del gioco Con il livello che abbiamo E buonanotte a tutti 30 Mi aspettavo Un pochino di più Ma vabbè Sono stato lento io Proseguiamo dall'altro lato E vediamo Quali nemici Si nascondono In questa zona Allora Vuol dire che Esatto C'è questo Qui non c'è nulla Prima di avanzare È sempre giusto Controllare Che cosa si nasconde Da queste parti Allora Vai giù Ecco qui Sono stato stupido Non ho altra giustificazione Allora Vorrei provare a usare il Il come si chiama Questo qua Per andare dall'altro lato Senza dover usare i bambini Un'ultraspora Per andare di qua invece Ci serve Per forza di cose Vediamo Ok Scendiamo Vediamo se c'è qualcos'altro Ovviamente Allora Dai Spero che ne valga la pena Più che altro Allora Di qua si prosegue Vediamo se ci arrivo Perfetto Un pepe rosso Pensavo non ce l'avremmo fatta Sincero Ok Facciamolo Scendere Verso di noi Voi preparatevi Ok Di qua siamo Uh Calmi tutti Siamo arrivati alla fine Qua c'è qualcosa Credo che di quasi Cioè Scendendo Proseguiamo Quindi a questo punto Ecco esatto Proverei Proverei Un secondo Ad andare Prima da questa parte E poi a quello sopra Credo Dicevo Credo Che dobbiamo Andare A quello più sopra Per Per poi scendere Però intanto Farmiamoci Sti 50 punti Quanti sono? 90 Va bene Meglio di nulla Dai Anzi Come ho detto Fino ad ora Questa è la zona migliore Che abbiamo trovato Per fare due puntarelli Vediamo Ok Ah Ah A parte perché i bimbi Sono usciti Vabbè Fa niente Rientrate su Comunque Quella era la zona giusta Dunque Vediamo Vediamo Che cosa si nasconde Prima qui Una tessere x Attacco Ok E Boh Fiore clone No Ultrafunghi Va bene Quindi ora Possiamo Tornare Indietro O meglio Possiamo Avanzare Dall'altra parte Richiamare i pupi E scendere ancora Però prima Andiamo da questa parte Solo per vedere Che cosa c'era Ah È un'altra zona Ok Va bene Va bene Si risale dal tubo Ok Quindi di qua Ecco Sapevo Andate bimbi Volate E portatemi Qualche Qualche Bello oggettino Mi raccomando Se non sbaglio Era questa La zona Ecco esatto Dove erano più sparsi I soldi E gli oggetti Tanto vabbè Per una moneta Non divento Non divento povero Ma più che altro Pantaloni dorati Ma più che altro Almeno Se c'è qualche oggetto Interessante Lo dobbiamo prendere Non per altro Tipo Sti pantaloni Per chi sono Per i bimbi O per Per gli adulti Scopriamolo subito Pantaloni dorati Per i bimbi Comodissi che brillano Come il sole Aumentano la difesa Diminuiscono la velocità E i baffi di Luigi Però aumentano la difesa Di Baby Mario Quindi Tutti tuoi Ok In questo blocco Invece Che cosa abbiamo Un fungo cura C'è qualcos'altro Sì c'è un altro blocco Da quella parte Quindi Eccoci qua Che cosa abbiamo Secondo me Uno strumento No 20 monete Vabbè Schifo non mi fanno Di qua che cosa abbiamo Il tubo Che ci riporta Di sopra E ci fa aprire Lo shortcut Perfetto Ah Questo è il modo Per far ritornare Gli adulti Eccoci qua Infatti Proseguiamo Tutti e quattro Assieme Mano nella mano Ecco fatto Che poi Anche lì Sempre teoria Dei 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 Multiversi Del viaggio Del tempo E tutte queste cose qua Toccare noi stessi Del passato Appunto Interagirci In teoria Non è un paradosso Non creiamo problemi Con lo spazio-tempo Però Se lo Se l'universo Non si fa Problemi E riesce a gestire La cosa In modo Autonomo Magari Riuscendo A compensare Appunto Il paradosso Magari Non succede Nulla Aia Aia Ma come Ma basta Basta Dio mio Quanto veloce No vabbè Usiamo Ecco Questo Tanto adesso Muore sicuro Mi aspettavo Al massimo Due colpi Mi aspettavo Due colpi Per la sua morte Invece Ce ne sono voluti Quattro Oh Quell'attacco lì Era tremendo A parte le pallie Di fuoco Che hanno iniziato A diventare veloce Ma I fuochi D'artificio Ti giuro Non capivo Dove andavano Altri funghi Ghiaccio Altri fiori Perché dico funghi Sono il cazzo Dei fiori Allora Aspetta che lì Invece che funghi E fiori Abbiamo Fagioli Ecco qua No Ecco fatto Non sapevo Che sarebbe Successo Va bene Raffreddiamo I bollenti spiriti Lo sapevo Che gli sarei fin Io sono saltato Nella speranza Di non beccare nessuno Lo sapevo Che avrei beccato qualcuno Porca miseria Se lo sapevo Oh Epidocchi Ecco E ovviamente Non male Tanto avere il Come si chiama Non è camaleonte Sì il camaleonte Messo lì Ci rende solo più difficile Uccidere questi Perché Giustamente Facendo solo uno Di danno Non gli Non gli puoi fare Neanche nulla Finisce che non Becchi abbastanza Quelli lì di fuoco E becchi solamente Quello lì Che becca uno Di danno Fiori clone Mi aspettavo Fiori di ghiaccio Io Come ci arrivo lì Bella domanda Probabilmente Ci ritorneremo Tuomb Blocco Bloccoso Rimosso Si scende Eccoci qua Altro blocco Bloccoso Un altro blocco Bloccoso Ci blocca Siamo bloccati Ecco qua Allora Prima di tutto Cosa abbiamo qui Il passaggio Per ritornare di sopra Ecco fatto Risblocchiamolo E Eccoci qua Perché fare subito Il fatto che arrivavamo in cima No Dove ha dovuto farci vedere Per forza la mappa Va bene Non importa E ora E ora Con il tubo Risaliamo Al piano precedente Non che ci serva E sinceramente Non capisco Neanche il motivo Per cui fare Questa cosa Ma Va bene Il punto è come arrivo Ecco esatto Là sopra Forse grazie a questo blocco Scopriamolo subito Ecco Forse servia Annette Facciamo solo un rialzo Solo per fare questa cosa qui Va bene Ecco fatto E ora Possiamo Riscendere di nuovo Quindi andiamo A togliere Il blocco Bloccoso Che blocca Il nostro amico E Infine Lo facciamo Proseguire Ecco Questo è un altro Minigioco Attenti Cosa fate Saltate in di testa Io sono tu Piacere di schiacciarvi Cercate di sassare Quel blocco Lassù Siete di sasso Sì Se me lo fai fare Va bene Su Sassatelo Anzi no Pensate che me ne stia Qui con le mani in mano Vedete qualche mano No Sono sassoiato Sassiamo Non è che ho scelta Lo sapevo Le regole sono semplici Dovete prendere dei sassi Sassate nel meno 30 Ok Va bene Sassate Non mi sembra che avessimo scelta Tuomp Quindi Allora Nella buona speranza Cerchiamo Di arrivare A 30 Mi sa che Già Siamo fuori Vero? La zona migliore Sicuramente Quella centrale Più che altro Ogni tanto Bisogna spostarsi Ai lati Per almeno Vedere Il insieme Dovevo scendere lì No Non è vero Non dovevo scendere lì Lì c'è un oggetto Me lo ricordo Ma non era Necessario Arrivare lì Tempo Tuo Ne avete sassati 41 Bravi Ci siete riusciti Potete sassare il blocco Salite Ci penso io Tuomp Lo sassate? Tornate a sassarmi La prossima volta Sarà più difficile Non che mi freghi Quello che vorrei fare Siete tornati Se siamo un gioco Sì vediamo Allora sì Bene Attenti Ora è più difficile Pronti Tanti sassi Sassateli Totale 50 Ma Non mi ricordo Che premio si vince Sincero Quello che vorrei fare È semplicemente Andare a prendere Questo di qua Vediamo Che cosa ci nascondevi 20 monete Un fungo vita Un fungo max Ultraspora Un peperosso E Una dinatessera Interessante La dinatessera che fa Maggiore potenza degli strumenti Ma ne usi due per volta A fine gioco Quando sei Probabilmente Con Come si dice Con 99 di tutto Può essere una buona scelta Tempo La cosa buona è che perlomeno Non ci fa spendere soldi Per fare questo minigioco Però vabbè Giusto per prova Proviamo Non per altro Vediamo se riusciamo Ad arrivare a 50 Ne dubito Perché Sono molto sparsi Però aspetta Mi sembra che le ha riposizionati Ho una mia impressione Forse in realtà Sai che Le ha riposizionati In modo che Tu riesca a ottenerne Davvero 50 Senza perderti Ok Ok Forse Forse Non ne devi mancare Neanche uno No 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 Per due Eravamo Le mie sferati Col cappello Sai che se poi scopro Che il premio È una minchiata Tipo 100 monete Invece che 20 Ti giuro Spacco a martellate Sto Sto tuomp Ti giuro Spacco la clotta cranica Martellate No 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 Dai L'ho sfiorato Con la testa Non è possibile Oh Finalmente Madonna mia Che Palle Riusci a fare sta cosa Ne avete sassate i 50 Sassi Siete stati bravi E ora Come promesso Un sasso di premio Salite Un cazzo di premio Tuomp Lo sassate La sempli Tessera Wow Tornate a sassarmi No Non succederà È giusto Che tu lo sappia Allora Vediamo Minore la quantità Di uno strumento Fratelli Maggiore il danno Inflitto Però È la controparte Di questa Mica male Mica male Tuomp Blocco Bloccoso Rimosso Si scende Altro blocco Bloccoso Bloccante Eh lo so C'è ragione Però questo è l'ultimo Quindi Noi Ci salutiamo qui Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come non so se mi avete seguito Solite dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo